Salve, sono Christopher Webb, sono da Canada, infatti più est di Canada si chiama Nuova Scozia e io sono un artista. Sono qui per fare un artista in residenza qui in Barge, ma la prima cosa è informazione di associazione quasi quadro. Questa è un'associazione di arte in Torino e queste persone si chiamano open call nell'internet e questa è una call per ogni artiste in tutto il mondo. In questa call si chiama Airland e ho pensato che è molto interessante e io faccio un qualcosa per questa situazione, io faccio un'email con l'informazione di me e il mio arte. E poi dopo io sono qui perché due mesi fa ho parlato con questo gruppo che io ho vintato un premio e per queste cose sono molto felice, per tante cose. La prima cosa è perché io sono un artista contemporaneo e io faccio di solito quadri oppure quadri nell'olio, di acquarella, ma anche per l'ultimo sei mesi, otto mesi e anche faccio, si chiama sound art in inglese, arte di suono. E ho parlato con questo gruppo che, ma perché io faccio il premio e perché è questa arte, ma anche perché ho suono di arte. Allora, io sono qui in Barge con molto piacere e in questo tempo ho conosciuto tante persone di Barge molto gentili e durante questo periodo ho pensato a qualcosa di di environment. Non so cosa dire in italiano. Ma in Halifax ci sono una building molto grande per fare elettricità. È brutta, è bruttissima, ma è grandissima nella mia città. Ma ogni persona per fare turismo in Halifax non guarda di questa cosa, ma guarda di qualcosa di più bello, una vecchia orologia, per esempio. Ma io penso che questo è anche importante. E quando ho arrivato in Torino l'ho visto un bel palazzo, ma anche l'ho visto qualcosa si chiama, nell'internet, Torino l'Itera, nel piazza Castello, ma è un edificio di Mussolini. Ma è strano per me, perché è quasi nuovo, ma non è la stessa architettura. E ho visto qualche informazione di questa cosa. E poi io penso che io fare qualcosa di questo qui. E la prima volta, la prima cosa, io ho scrivato. Perché dentro ogni quadro che io faccio c'è parole. E io non un scrivatore, ma io uso queste parole per informazione. E poi, dopo, quando faccio un quadro, io dipinto sopra queste parole. Ma anche io faccio una... come la musica, come il canta Gregoriana. E due giorni fa, con dieci persone molto dentile qui in Barge, io faccio un... come un concerto, senza nessuno. E queste parole... ho fatto un canta Gregoriano di queste parole. Ma questo non è religioso. Questo è come... the environment. E anche come politici. E anche come i problemi in questo momento. Forse qui in Italia, ma certamente in Canada. E sono qui per un'altra tre giorni. E spero che io finisco il mio quadro. E poi, nel medio di dicembre, c'è una mostra per dieci finalisti di associazione Quasi Quadro. E sono molto, molto felice per fare queste... queste arti, questa mostra.